Dovevamo mettere per forza... Consigliere, per favore... Consigliere, consigliere... Tu non devi interrompere, basta! Consigliere Ciavarella, la consigliera è un tritto, stava parlando con me. Ma perché? Perché ti sarei sembrato interrompere? Chiedo un attimo di calma. Consigliere Ciavarella, la prego di rivolgersi in una maniera equilibrata, la consigliera tritto, si segga, la consigliera tritto, stava chiedendo una cosa alla Presidente. Presidente, Presidente. Non voglio interrompere.